Semilibertà per due dei cinque detenuti che contribuirono a salvare la vita alla gente aggredito con olio bollente nel carcere di Sulmona da Unel Gastolano. La storia di Andrea Paglieta, promosso recentemente a grado di sovrintendente di Polizia Penitenziaria, continua a tenere banco. L'ultimo riconoscimento arriva per due dei reclusi che intervennero prontamente quella mattina del 20 giugno 2018, dando la salvare la vita a Paglieta. Fu il gruppo per l'osservazione trattamentale a proporre la semilibertà proprio in funzione del contributo dato in termini di salvataggio della vita del poliziotto penitenziario. A L, R e Z hanno raggiunto, grazie al loro alto senso civico, l'ambito beneficio che li consederà di vivere gran parte della loro giornata all'esterno del carcere e per di più in contesti territoriali a loro più confacenti le esigenze familiari. Se attraverso il prezioso contributo di tutto il personale operante all'interno del penitenziario sulmonese non fosse stato elaborato al meglio il programma trattamentale, ovvero la capacità di fare autocritica e quindi la propria rivisitazione criminale, i 5 detenuti a corsi in soccorso del poliziotto. Chissà quale altra decisione avrebbero potuto prendere, tiene a rimarcare il segretario confederale Will, Mauro Nardella. Sembrava una delle tante ordine regionate di servizio per Andrea Paglieta. Quella mattina del 20 giugno di un anno fa qualcosa però andò storto. Durante un giro di pellustrazione all'interno del corridoio dove erano ristretti i detenuti tutti l'estrazione mafiosa, Paglieta veniva chiamato Don Ergastolano, il quale, senza motivo alcuno, non appena l'ha visto giungere dinanzi al cancello della camera, li lanciò addosso dell'olio bollente. Nonostante le sue roti personali e le capacità professionali dimostrate nell'essersi prontamente riparato gli occhi, sfilatosi da magliette e respinto l'accentino che il detenuto li avrebbe lanciato addosso nell'intento di dargli fuoco, riportava ustioni di primo, secondo e terzo grado al volto e al torace. Determinante in quella occasione fu anche l'intervento di cinque detenuti accorsi immediatamente dopo l'accaduto, contribuendo a riportare in salvo lo sfortunato agente. Due di loro ora sono semi liberi.